Ciao a tutti in questo nuovo video qua io speravo che il ventilatore arrivasse a me ma non arriva se mi alzo penso che cadere tutto per terra vabbè, pazienza allora, visto che speriamo che non crolli niente raga, perché sono un sole di rifare il video allora non è mica mai chiesto di fare l'unboxing perché mi ha fatto il regalo di compleanno ovviamente uscirà non so quando questo video e sì, perché ultimamente ci vediamo con le persone a mezzi alterni quindi sono sturcata, ho un malo agli occhi vi farò vedere cosa mi ha regalato partiamo dalla busta che è bellissima ecco qua, le bigliettine la busta è molto carina allora, andiamo a scoprire cosa c'è dentro number one incensi questo incensi si chiama amore e da vedere poi io non capisco ancora l'odore quale sia ci ho provato a capirlo diciamo così va tanto poi dovrò usarli quindi number one incensi ce la posso fare va bene gli hanno blindati l'odore è molto buono non so che l'odore sia non so, però è molto buono gli userò oh, quindi arriva un po' d'aria scudate ma mi è perso il risparmio energetico ho sempre il telefono scarico nella mia vita incensi number one poi number two questi li abbinerò con la collana che ho già che mi ha regalato sempre l'amica tatatadan non so, voi non li vedete ve li faccio vedere bene così almeno quando ho dei vestiti e dove ho messo e dovevo uscire me li metto a questi qua orecchini lunghi non ne ho più li faccio vedere ho anche la collana uguale queste si vedono bene faccio così e ho la collana uguale uguale che ho la regalata appunto con la mia amica e questi qua me li metterò li metterò insieme alla collana così almeno quando me li metto ce li ho number two acchiappacioni poi number three candela candela alla vaniglia profumata quel tappino questo perché mi ricordo un gelato candela poi il pezzo forte che io adoro queste cose maschere per il viso allora una questa qua sarebbe è bianca e maschera viso con pietra di luna è un complesso di minerali e invece questa qua è black maschera perché nera una nera e l'altra bianca tipo perla maschera di pietra di luna è un complesso purificante quindi questa la userò per tv queste robe qua questa cosa ce la userò magari per quando vado in piscina al mare dandoci 5 minuti di pose anche questo qua 5 minuti ovviamente io sapeva scrivere grazie mille per tutti i regali li rimettero tutti nella busta anzi poi li metto a posto se ne ci sono allora questo qua andrà in camera questo andrà in bagno ho addirittura nel frigo perché ho paura che facciano una brutta fine in bagno se qua mi viene tutto in camera direi se il vetro in bagno ho tenuto tutto nella busta perché se no mia madre già che la va a frugare questi poi li metto in bagno in bagno come per una ora che vi bisognerò sapere come sono le maschere mi vedessi più interessa mi interessa proprio sapere comunque grazie per il ricordo di complanno la busta è la cosa più bella che bella darò anche ovviamente e niente ci dovremmo farvi vedere questo piccolo unboxing dei regali di compleanno tra l'altro ci sono tanti regali che devo ancora dargli di compleanno io e purtroppo riesco a vedere tutti sempre perché ormai tra chi c'è lavora chi c'ha da fare chi ha i problemi non ciò vuole mai a vederci tutti insieme grazie mille alla amica Veronica ciao ti saluto nel video così almeno se vedrai questo video saprai che ti ho salutato siamo che c'è gli occhiai raga ma è semplicemente il mascara che ieri non è venuto via e niente poi se riceverò non penso che riceverò altri regali perché se suppongo cioè in teoria dovrei tanto siamo a luglio il mio complanno è stato il 20 maggio quindi non vi preoccupate direttamente a Natale ce li facciamo io devo dare ancora quelli di Natale quindi figuriamoci ci sono natale comprare insieme vi saluto ci vediamo in un prossimo video mi raccomando seguitemi anche su Twitch su TikTok trovate tutti i link sotto e se volete farmi un pensierino per non so per qualche osiasi motivo trovate sotto la mia lista di serie Amazon che penso spero sia aggiornata e quindi ci vediamo nel prossimo video lasciate un commento un like solito cose che sapete che devo dire all'inizio ma dico sempre alla fine sono scema se siete atti nella fine del video vedete l'hashtag non so cosa scrivere ciao